Cosa vuoi fare nella vita? Il medico forse? Magari no, quello no. L'anno prossimo vado a Perito Agrario, all'Unico che si trova a Vicenza, al Trentin, alla scuola e magari no, anzi sicuramente anche l'università con magari qualcosa che c'entra anche con la politica che mi è sempre piaciuta o anche economia. L'idea è già ben chiara e forse è un futuro in politica. Sembra molto più grande dei suoi 14 anni Matteo Ridolfi, il giovanissimo eroe di Colognola i Colli, che il 18 febbraio scorso ha salvato un 65enne colpito da infarto praticandogli un massaggio cardiaco in strada. Ospite della Camera dei Deputati con i genitori viene ricevuto e premiato dal conterraneo veronese Lorenzo Fontana. Penso sia un bel esempio per tutti i ragazzi italiani. Spesso noi sentiamo notizie purtroppo di una gioventù che non si comporta sempre bene. Questo invece è sicuramente un esempio di larga parte della gioventù in questo caso veronese ma italiana, che è una gioventù che secondo me potrà prendere un giorno le redini di questo paese in maniera anche migliore rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Inevitabile ritornare alla mente a quel giorno. Stavo andando in bicicletta verso il campetto con i miei amici come tutte le domeniche, anche questa, e ho sentito una donna che da lontana continuava a urlare, inizio un po' a correre per vedere cosa è successo, e quando mi fermo lì davanti guardo a destra e a sinistra e sento che dice che suo marito aveva fatto un infarto. Allora butto giù la bici e anche lo zaino col pallone e vado da lei a vedere cosa è successo. Matteo chiama il 118, riceve le prime istruzioni ma nell'attesa dell'ambulanza gli viene chiesto se se la sente di praticare il massaggio cardiaco e ispirandosi, come ha detto lui stesso, alla serie tv Doc non si fa prendere dal panico. Ho detto che me la sentivo comunque, allora l'ho fatto per 15-18 minuti ecco, poi è arrivata l'ambulanza e anche l'elicottero e poi il carabiniere sono andato via a giocare. Le lode del governatore Zaia, il premio alla Camera dei Deputati e un probabile futuro titolo di alfiere della Repubblica come sindaca e preside della scuola hanno proposto al capo dello Stato Mattarella. Intanto lui, Matteo, resta il 14enne di sempre che spesso si sorprende di quei minuti di grande coraggio spesi per salvare una vita. Magari che aiuto qualcuno sì, mi è già successo anche da piccolo, però così tanto grande mai.